Come sta procedendo? Sono contentissima, sono veramente contenta perché nell'arco di pochissimo tempo siamo passati da 18 a 43 iscritti. Il 20 di febbraio avremo il primo incontro ufficiale dove avrò modo di raccontare a tutti le mie idee fantastiche e bellissime. Spero che i commercianti mi saranno dietro perché io sono abbastanza vulcanica e quindi di idee ne ho veramente in quantità industriale. Faremo una bellissima apericena presso il Circo L'Operaia Fornicette. Durante l'apericena io racconterò queste cose a loro e vedremo la loro reazione. Mi sembra una tua new entry esplosiva nel vero senso della parola. Dove pensi che sia il mistero di tutto ciò, cioè l'arcano della situazione? Come mai queste new entry e questi negozi che sono arrivati di nuovo? Vabbè, questo non lo so. Io ci metto tanta energia, le mie conoscenze, il mio sapere e la mia voglia di fare. Ci credo, voglio portare un cambiamento, qualcosa di diverso, un'energia nuova e positiva. Spero che i commercianti apprezzeranno. Un'ultima cosa, l'amministrazione comunale sarà vicino a te, Flavio Tani, per esempio, che è l'assessore al commercio? Sì, sì, Flavio mi segue, mi ascolta, mi sopporta e supporta in tutti i miei dubbi o le mie idee, cercando di trovare sempre un giusto equilibrio. Un punto che per me è un po' difficile in questo ruolo, io che sono abituata a fare la titolare di azienda, di cercare di essere meno aggressiva, perché tendo a imporre un po' quello che sono le mie idee, ma insomma cercherò di trovare il giusto equilibrio. Per concludere, un primo appuntamento, ce lo racconti, quando sarà un primo appuntamento appunto di evento per valorizzare Fornacette? C'è già oppure è ancora prematuro dirlo? Dovrò tutto decidere insieme ai commercianti, nella prima riunione io porterò le mie idee e insieme decideremo quale sarà la prima iniziativa.